In collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda. Amici telespettatori, buonasera e ben ritrovati ad Eppi Hour. Antiquariato, modernariato e design. Questo è il tema di questa sera, parleremo di mano in mano e lo facciamo con il mio ospite qui studio, al quale do subito il benvenuto. Ritroviamo Simone Papini, venditore della cooperativa di Di Mano in Mano. Benvenuto e ben ritrovato Simone. Grazie, grazie. Come stai? Bene, bene, grazie. Bene. Simone, allora, Di Mano in Mano, diciamo che il nome racconta tutto. Di Mano in Mano dal 1999. Che cosa è cambiato in questi anni? Beh, è cambiato tutto. È cambiato tutto, la trasformazione è stata forte, globale, importante. Quello che non è cambiato sono i principi e i valori fondativi, che erano importanti allora, lo sono tutt'oggi e sono proiettati verso il futuro. La cooperativa nasce appunto nel 99, come dicevi, da un gruppo di persone che decidono di iniziare a lavorare negli sgomberi, quindi negli svuotamenti di casa, appartamenti, solai, cantine, per poter avere un introito e poter contribuire alla vita delle comunità nel quale appartenevano. Creare contemporaneamente il lavoro e quindi possibilità di aiuto anche per persone fragili o con svantaggio. Questa cosa tuttora esiste oggi, è uno dei nostri pilastri fondativi. Ovviamente tutto quello che riguarda il mercato invece ha avuto dei cambiamenti strabilianti da più di vent'anni a questa parte. Come tutti i settori d'altronde. Ovviamente, sì, ovviamente. Quindi siamo partiti dal reciclo degli arredi comuni di casa, fino ad avere oggi delle sezioni di alto antiquariato e di importante design, che prima non potevamo neanche pensare di avere, invece oggi sono realtà produttiva e conclamata. Certo, certo. Quindi diciamo che sono cambiate tantissime cose in base anche alle esigenze del mercato. Assolutamente sì. Siamo conosciuti tantissimo, tant'è che avete due store adesso. Sì, abbiamo un negozio a Milano, in Viare Spinassi 99, e uno store più grande di più di 5.000 metri quadri a Cambiago. Certo. Simone, si è appena conclusa la Design Week. Ecco, com'è andata per voi, per Di Mano in Mano? È stato un appuntamento interessante e curioso. Proprio nel negozio di Milano di cui, ti dicevo, abbiamo organizzato in quella settimana una mostra espositiva, una fiera intitolata Icone del Design. Icone del Design? Icone del Design, sì. Perché questo nome? Perché l'esposizione riguardava pezzi iconici, appunto, di importanti architetti che hanno fatto la storia del design. Parlo di Franco Albini, piuttosto che Sozzas, piuttosto che Achille Castiglioni ed altri. E quindi abbiamo, in quel momento, sono emerse tantissime nuove brand, loghi, eccetera. Noi invece abbiamo preferito ritornare un po' alle origini, quindi presentando mobili e complimenti d'arredo fondamentali per la storia del design. Anche per ricollegarci un po' con le radici, che sono quelle che oggi ad alcuni fanno domandare da dove arrivi tutto ciò, ecco, la risposta era lì, arrivava da quelle personalità e da quei progetti realizzati fondamentali. Esatto. Avete, diciamo, messo insieme antiquariato, design e modernariato. Sì, in realtà, sempre un po' a modo nostro, prima di questo evento... X interessante, però. Sì, sì, sì. Prima di questo evento ABC Design, di cui ti dicevo, abbiamo fatto una sorta di pre-presalone. Però, in questo caso, il protagonista era l'antico, l'antiquariato. Cioè, cercando di coniugare, di far capire come un pezzo antico possa benissimo convivere serenamente all'interno di un contesto arredativo moderno. Ed è stata una sfida interessante, insomma, anche presa con curiosità dal pubblico. Quindi accolta con tanta curiosità dalle persone che hanno frequentato questa mostra in quei giorni. Assolutamente sì, assolutamente sì, con uno stand, un'esposizione studiata ad hoc, come anche nel caso di ABC Design, in collaborazione con l'Interior Design Andrea Ghisoni, che collabora con noi da molto tempo, ma non solo quindi dal punto di vista estetico e di fruibilità dell'ambiente, di lettura del contesto, ma anche cercando di dargli un taglio, come facciamo spesso, culturale, diciamo, un valore aggiunto. E questo grazie anche, appunto, alla grande professionalità e esperienza dell'architetto. Certo, quindi tantissime cose, un mix di antiquariato, modernariato, design. Però, come dicevi prima, Simone, voi siete partiti dagli sgomberi. Noi siamo partiti dagli sgomberi. Un cambio, un cambio netto, un'integrazione, anzi, potremmo dirla, però abbastanza importante, rilevante. Molto importante, una maturazione complessiva grande. Appunto, un manipolo di amici che sgomberano case, solai, e che nel contesto col passare degli anni si struttura in maniera tale da dare origine a quello che siamo oggi. con grande impegno, con grande dedizione, con grande fatica, anche indubbiamente. Però, insomma, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a ottenere qualcosa che forse all'inizio era addirittura impensabile. Simone, quindi potremmo dire che un passaggio da mercatino a eccellenze di design e di antiquariato. Ecco, è lungo o breve questo, diciamo, questo percorso? Per me è lunghissimo. È stata una cosa complicata. Io sono in cooperativa da molti anni, quindi ho visto l'evoluzione delle cose. Non è stato né breve né semplice, però, appunto, come ti dicevo, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, a mio modo di vedere, per due questioni. La volontà e la formazione, che sono imprescindibili se si vuole migliorare. E lo stimolo a migliorare per noi è sempre stato ed è tuttora importantissimo. Quindi la formazione all'inizio esterna, con enti specialistici, adesso siamo in grado anche di fare formazione interna, quindi autoformazione, è l'unico modo per poter essere preparati, professionali, capaci e quindi migliorare sempre. Simone, mi viene da dire che però, oltre alla formazione, è anche tanta passione da parte vostra, da parte di tutte le persone che lavorano all'interno di questi store, di questa azienda. Assolutamente sì, la passione è imprescindibile. Non si potrebbe fare questo lavoro se non ci fosse passione, perché non è un lavoro comune in realtà. È un lavoro sempre molto diverso, ampio e in alcuni settori è in grado proprio di aprire la testa, far fare delle esperienze molto interessanti, molto formative. Ma se non c'è curiosità e passione è come gettare un seme sull'asfalto. Non si va da nessuna parte, insomma. Simone, ma come fate a conciliare i valori iniziali, i valori di cui parlavamo prima, con un business, potremmo dire, in costante crescita? Allora, il nostro programma di business, in realtà negli anni abbiamo visto come sia stato valido, efficace, vincente, perché è scalabile fondamentalmente. Cioè per dire, succede questo, più si vende, più di mano in mano riesce a destinare risorse per aprire nuovi settori, per migliorarli, ampliarli e quindi creare posti di lavoro. E quindi avere più possibilità di incontrare e coinvolgere anche persone con difficoltà i più fragili. Questo fa sì che questi ingredienti, diciamo, fanno sì che il risultato, la ricetta sia assolutamente vincente e ci permette di, come dicevi tu, continuare a coniugare i valori iniziali. Quei valori iniziali sono i valori attuali dell'oggi e saranno i valori futuri del domani. Legati a quelli del passato? Assolutamente sì, senza soluzione di continuità. Questo, quindi, mettere al centro dell'attenzione l'individuo è fondamentale. Senza fare questo non si può costruire nulla di buono e contemporaneamente mettere al centro la tutela dell'ambiente. Faccio un esempio piccolino. L'ultima cosa che siamo riusciti a fare è liberarci della plastica. Abbiamo fatto installare diversi depuratori d'acqua all'interno dei nostri ambienti di lavoro. Depuratori d'acqua all'interno dei nostri ambienti di lavoro abbiamo dotato di borracce tutte le persone che lavorano da noi in maniera tale da non avere più a che fare con le bottigliette d'acqua. Che in un'azienda che vede più di 100 persone impiegate possono diventare un problema non da poco. Ma per dirti anche gli sgomberi, la nostra attività principale, noi oggi arriviamo a intervenire intorno ai 1500 sgomberi all'anno. Di questi, della merce recuperata, l'80% riusciamo a rimetterla sul mercato risparmiando qualcosa come 1700 tonnellate di CO2 all'anno. E questo va ovviamente in tutela nostra. Che sono numeri importanti. Sono numeri piuttosto importanti, sì. Siamo piuttosto orgogliosi di questo. Tutela della persona e dell'ambiente. Quindi passione, tutela dell'ambiente, rispetto per... Oramai tutti cercano in qualche modo di rispettare l'ambiente. O meglio, si cerca il più possibile, anche se non proprio tutti. Però è una cosa che comunque vi dà un valore in più rispetto a tanti di quelli che non lo fanno. Sì, assolutamente sì. Poi ti dirò di più, in realtà di mano in mano è green. Anche quando la parola green non era di moda. Già l'idea stessa di recuperare degli arredi. Quindi non buttarli. Rimetterli sul mercato. Quindi dargli una seconda vita. Qualcuno potrebbe riutilizzarli. Assolutamente sì. E questa cosa noi la facciamo dal 99. Senza che green fosse una parola comune o comunque di moda. E poi sta ovviamente nel contesto di tutto quello che viene considerato di seconda mano. Esatto. Insomma, tante cose belle da scoprire soprattutto. Simone, io vorrei ricordare il sito che è dimanoinmano.it ai nostri telespettatori. Ricordiamo anche che potete contattare lo 0295349193 per avere tutte le informazioni. Simone, ti ringrazio, ti saluto, ti aspetto prossimamente per una nuova puntata. Salutiamo e ringraziamo anche voi amici da casa e vi auguriamo una piacevole serata. in collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda. Grazie. Grazie.